Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi parleremo della nuova arma meta della Season 6 di Call of Duty Warzone Secondo me quest'arma sostituirà molto presto l'STG 44 L'arma in questione è la D-Tier 30-06 Quest'arma ha una cadenza molto bassa ma con un ottimo time to kill Come potete vedere dalla kill che vi sto mostrando i nemici vanno a terra con molta facilità L'unica pecca che secondo me magari non potrebbe piacere a molti player è la mobilità Fondamentalmente è un'arma con molta poca mobilità E che quindi magari non vi permetterà di muovervi nel modo in cui vorreste Gli accessori che andremo a inserire in quest'arma sono il silenziatore quartermaster La canna lunga Sanctum Ovviamente l'ottica jack senza vetro Caricatore da 40 colpi anche se volendo si possono inserire anche i 30 aumentando un po' la mobilità dell'arma E infine come munizioni grammatura elevata Vi consiglio di utilizzare questo setup e come avete potuto notare anche dalle kill Che ho mostrato in precedenza Anche il rinculo non è male Comunque mi raccomando ragazzi Provatela e mi fate sapere nei commenti E se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti